Ben ritrovati amici del sito Gianluca Rossi.it, del canale YouTube Gianluca Rossi TV, dunque Coppa Italia, Juventus-Inter, l'Inter che cerca l'impresa, sì perché servirà veramente un'impresa, perché è inutile che andiamo dai maghi, leggiamo gli oroscopi o ci inventiamo queste cose da tifosi che muovono il rosario, nelle partite di 180 minuti, che sono un po' le partite canoniche di Coppa, quando vai in trasferta con due gol sul groppone presi all'andata, addirittura regalati nel caso dell'Inter, è corretto dire, ma non è questione di essere ottimisti o pessimisti, ripeto, bisogna essere realisti, se prendi due gol in casa al 70% passa l'altro, questo perlomeno dice la storia delle competizioni in cui si giocano partite di 180 minuti, quindi il 70% passa la Juve, dobbiamo saperlo, io ho negli occhi indubbiamente la grande ripresa giocata il 2 febbraio scorso a San Siro, in cui sono state almeno tre occasioni per raggiungere perlomeno il pareggio che avrebbe reso, se vogliamo, un po' meno proibitivo, anche dal punto di vista psicologico il ritorno, però è chiaro che dopo il vantaggio di Lauter Martinez il 2 febbraio scorso, è quei 10 minuti di follia tra Young che comunque commette fallo da rigore su Quadrado che gli sfreccia dietro e ovviamente il misunderstanding, Andanovic e Bastoni, poi c'è chi ha dato la colpa a Andanovic, io personalmente vedo tutta una gradualità di colpe che vanno dal retropassaggio di De Vrij a Andanovic che esce ovviamente a perdifiato non sapendo cosa fare, Bastoni comunque il primo ad arrivare sul pallone anziché calciarlo in tribuna, purtroppo prova ad aggirare Ronaldo, da lì Ronaldo gli soffia il pallone e segna porta vuota. Inutile piangere sul latte versato, ormai è andata, due gol regalati, Juventus in vantaggio, Juventus virtualmente già in finale, questo è corretto dirlo, di Coppa Italia, ma questo non deve togliere nulla ovviamente al tentativo di impresa dell'Inter che ci dovrà essere, ecco l'Inter se riparte per esempio dalle buone cose che ho visto dal vivo a Firenze e dalla ripresa, proprio con la Juventus in Coppa Italia ha indubbiamente delle chance di poter sordertire tutti i pronostici, però ragazzi noi dobbiamo parlare di cose concrete, quando prendi due gol in casa in una partita di 180 minuti al 70% sei fuori, senza discussioni, è chiaro che l'Inter recupera comunque due giocatori importantissimi che sono Hakimi e Lukaku, e beh Hakimi e Lukaku è tanta roba, soprattutto se Lukaku tornerà ad avere la verba non tanto a livello di gol, ma quanto di partecipazione al gioco che sembra un pochino aver perso in quest'ultimo periodo, poi ci sono le situazioni in cui non segni, però ripeto, Lukaku e Lautaro credo che siano in Europa per numero di gol segnati la seconda coppia dietro Lewandowski e Müller del Bayern, quindi figuratevi se mi permetto di criticarli, devo dire che sono forse anche la prima coppia in Europa se non al mondo per gol sbagliati, e quindi speriamo che i mirini siano ben lucidi, ben lucidati, perché ovviamente un conto è giocare con la Fiorentina o con il Benevento, un conto come abbiamo visto sulla nostra pelle è giocare con la Juventus, certo che il mio sogno sarebbe fare una partita come quella di campionato, sarebbe meraviglioso, ma devo dire che dall'altra parte mi sembra che proprio quella scoppola presa da Pirlo abbia indotto il giovane mister bianco-nero a correggere il tiro, a correggere la sua squadra, non è un caso che la Juventus non prenda gol, e beh non è poco, da tre partite, l'Inter non prende gol da quattro partite, sto parlando di campionato in questo momento, e quindi è una Juventus che a un certo punto non sarà bella, non sarà spettacolare, resta il fatto che comunque è passata agevolmente senza prendere gol sugli avversari delle ultime tre partite, non ultima alla Roma, dove non avrà brillato, continuano a dirmi ma guarda che è una Juventus che non gioca bene, guarda che Ronaldo non è più lui, ecco quando mi dicono così io mi preoccupo, perché se mi dicono che la Juventus è allegriana è proprio la volta in cui ti vai a confrontare con un avversario che sbaglia poco, sbaglia meno che in passato, anche a livello di formazione, ahimè, e quindi devo dire che la scoppola che gli abbiamo dato in campionato è servita alla Juventus e a Pirlo naturalmente, in particolare per correggere tatticamente tante sbavature che avevamo visto fin qui. Non ci sono molte parole, uno mi dice vince chi segna per primo, queste frasi fatte, l'Inter deve vincere con due gol di scarto, non ci sono Santi, deve vincere in casa della Juve con due gol di scarto, sì certo, poi anche se 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, andate avanti, andate pure a Damone, parliamo di cose concrete, l'Inter deve mettere due gol tra sé e la Juventus in casa della Juventus per passare il turno e raggiungere una bella finale di Coppa Italia, mi piacerebbe moltissimo, però è chiaro che se poi in serie di commento dovremmo ovviamente approfondire l'eliminazione dell'Inter, saremo tutti concordi nel dire che si è persa l'andata, certo con gli errori che si sono fatti, ancora prima di vedere come sarà la gara di ritorno. Devo dire che io sempre un po' di timore nel momento in cui vi parlo, perché sul fronte Juventus si parla di febbre, di origine intestinale per Morata e per Arthur, se non ho capito bene, e non bisognerà verificare le loro condizioni, da questa parte invece oggi, grazie a Dio io non ho avuto fino a questo momento conferme, spero di non averle mai, di un possibile caso di Covid dall'Inter, ma ripeto, è stata solo una voce nel consueto giro di tamponi che si fanno e oggi l'Inter va a Torino lo stesso giorno della partita con la formazione migliore, con la formazione migliore scelta da Antonio Conte, una formazione dove ci sarà Gagliardini almeno inizialmente, poi è possibile che ci sia spazio per Eriksen, ma Gagliardini dovrebbe sostituire Vidal che tanto era squalificato e che credo non so neanche se sarà disponibile con la Lazio e poi per il resto rientro di Hakimi, rientro di Lukaku, Lautaro Lallaranti, il fantastico Barella, Brozovic, per il resto la difesa titolare con Skriniar che ho appena celebrato nell'ultimo video editoriale, De Vrij e Bastoni, Andanovic tra i pali, insomma bene o male la formazione è questa, la Juventus ha tantissime scelte, ancora non si capisce se può giocare Kuluzeski, probabilmente giocare a Chiesa che è sempre comunque un brutto cliente, c'è McKennie che è comunque un giocatore che sta impreziosendo indubbiamente con del fosforo il centrocampo della Juventus, soprattutto nelle ultime partite, insomma la Juventus è forte, è un'ultima che ci nascondiamo, sarebbe una grande impresa, non si impone alcuna scelta, lo dico subito, ma mi pare che Antonio Conte su questo la pensi come me, perché l'Inter dopo essere uscita dall'Europa è l'unica squadra che non può fare scelte, non può dire vabbè ormai la Coppa Italia lasciamo e concentriamoci sul campionato, l'Inter ha il dovere di concentrarsi su tutto, si apre un miniciclo perché ripeto in campionato non era difficile prendere i pronostici come ho fatto io, pensare che la Juventus vincesse, che il Milan dilagasse col Crotone e che l'Inter stesse in scia vincendo a Firenze, ecco anche nella prossima giornata di campionato, ma ci sarà tempo per parlarne, un altro turno favorevole ovviamente al Milan che va alla Spezia, certamente un po' più difficile che col Crotone, ma comunque sicuramente più facile degli impegni che rispettivamente hanno la Juventus che è di scena a Napoli e l'Inter che gioca contro la Lazio, Lazio che è reduce da un numero di vittorie consecutive per cui è canciato da Roma e ormai è rientrata nel treno teoricamente di quelle che possono giocarsi non solo la Champions League ma anche lo Scudetto. Ragazzi parole non servono, tutti in campo vedremo come andrà, all'Inter serve un'impresa, una notte da grandi Inter, nel derby l'abbiamo fatta, in campionato l'abbiamo fatta, purtroppo non l'abbiamo fatta nella data di Coppa Italia, speriamo davvero di farla a Torino perché arrivare in finale di questa manifestazione sarebbe anche una grossa iniezione di fiducia per tutto l'ambiente. Io ci spero, ci credo, però devo essere anche molto razionale e realista, favorita è la Juventus e non bisogna dimenticarla, non vuol dire che questo debba togliere per forza animo spugnandi ai ragazzi nerazzoni. Viva l'Inter, sempre e comunque. Ciao!